Allora cari amici oggi siamo qua per una prova su delle stilografiche dotate, sono tre aurora le vedete, dotate di pennini flessibili ma con composizioni metallurgiche anche diverse. Volevo porre di nuovo un attimo attenzione sui pennini flessibili ma non solo quelli a punta sottile ma anche quelli insomma con punte tronche o stab. Questa l'avete già vista, ormai è famosa, è la mia stilografica quella che fa un fine veramente stupendo. Queste due invece mi sono state prestate per la prova dal mio amico Arminio Murrao. Abbiamo una Optima dotata di pennino in oro ed è un 18 carati e mentre qua abbiamo una stupenda 88, vedete è una lavorazione praticamente unica, un ghilo che ha un cappuccio in argento massiccio, veramente molto bella, corpo in resina ma adesso non siamo qua per parlare delle caratteristiche diciamo generali della penna ma dei loro pennini piuttosto allora. E qua abbiamo la mia ecco. Ecco parliamo di queste due, cominciamo con queste due che sono diciamo la stessa tipologia di penna ecco questa nera sulla sinistra ha il pennino, sono tutte e due rebbi lunghi no? Quindi punte lunghe, lo vedete c'è la stessa lunghezza di pennino, quello che cambia è che questa qua porta praticamente, ecco si può notare che ha il taglio di capillarità allungato con un doppio foro e la geometria delle ali è diversa per renderla ancora più performante questa qui nera. Questa qui invece ha un pennino praticamente, era praticamente un M quindi un pennino decisamente importante che è stato appiattito quindi è diventato di fatto uno stab all'incirca con un tratto da 0,7 più o meno. Ma la peculiarità di questi pennini qua che ovviamente, vabbè questa è tanto che non la uso, eccola qua, è che la flessibilità vabbè qua ha un fine finissimo, scusate, ero fuori campo, ok, questo è un tratto finissimo e nel contempo se schiaccio ho tutta la mia peculiarità sul pennino, insomma sul contrasto e qua invece ho un tratto decisamente più importante ma alla stessa maniera ho anche il mio contrasto e siamo in un ambito stab c'è leggermente più contrasto lungo la verticale, no? E quindi niente, partiamo con questa qua, poi questa qua ne parliamo dopo perché è importante anche questa qua Allora, questa penna qua, questa penna qua praticamente ha questa punta particolare ed è bello vedere insomma che ho delle variazioni di tratto sia questa che questa, stiamo parlando di pennini di 14 carati, ok? Ed è una penna che mi consente veramente per assurdo anche se non nasce sicuramente con quell'intento posso addirittura farci del corsivo inglese ma vedete che parto con una gomena come dico io quindi assolutamente diciamo non si presta a questo tipo di attività perché mi vengono lettere molto grossolane però la variabilità di tratto è già bella evidente anche qua ma nasce per chi vuole scritture voluminose molto evidenti insomma c'è gente che ama, io amo scrivere abbastanza fine ma alcuni amano proprio calligrafie ben più prestanti e visivamente così importanti, no? Ha una sua scorrevolezza di tratto molto molto agevole, molto molto bella, no? però alla stessa maniera posso, la bellezza di avere appunto sempre una flessibilità ulteriore sul pennino mi permette una variabilità di tratto e anche una bellezza di scrittura sempre più evidente perché in questo caso senza aumentare di tanto però vado a cercare delle pressioni, vedete? e posso insomma variegare molto il mio, diciamo, il mio scritto ecco in questo caso posso scrivere così giusto per divertirci per non scrivere le solite cose farò un pangramma che non è quello classico anglosassone che riguarda un cane e una volpe che insomma non ne posso più di sentirlo quindi un pangramma è una frase di senso compiuto dove sono presenti tutte le lettere dell'alfabeto ed è sempre una cosa pratica da fare perché vado a fare anziché l'abbecedario insomma pedestre vado a scrivere una piccola frase, no? E quindi in questo caso la frase sarà quando prendo il taxi, quindi il pangramma sarà quando prendo il taxi bevo yogurt, ascolto jazz e mangio figli che qui insomma non è il massimo della vita ma ci sono un pangramma italiano che secondo me è anche abbastanza simpatico, no? e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. E niente, avete visto, la penna mi ha seguito molto, ma appunto il segreto è sempre la flessibilità. Sono due penini a 14 carati e niente, è una confortevolezza di scrittura veramente incredibile e vedete che insomma dalla rigidezza che posso avere per un uso veramente senza pressione, e le cose cambiano, insomma quel po' di pressione mi consente insomma di avere subito, vedete quanto è molto più personale, molto più gradevole insomma una scrittura dove, ripeto, non stravedo per scrittura un po' grosse perché preferisco i fini e gli extra fini, però per chi ama quel genere di scritte un po' più presenti e pesanti questa cosa, una penna così decisamente ha una marcia in più. Nel contempo quindi queste due ne abbiamo parlato adesso, andiamo a vedere quest'altra, cambiamo solo foglio perché così possiamo far vedere bene anche questa. Allora questa qua ha una peculiarità tutta sua che secondo me bisogna vederla. Allora la cosa importante di questo pennino qua, vediamo se riesco a farlo vedere, è un 18 carati, eccolo vedete si vede. Questo è un 18 carati e ha una particolarità rispetto a suo fratello qua, che è un punto è corte e si vede tutto, no? Cioè si vede lontano un miglio dalla conformazione proprio delle ali, della geometria, ok? Perché questo non è stato cambiato nella geometria. Questo qui neanche però ha subito delle variazioni perché vedete ha il doppio foro di reazione, allungamento del taglio di capillarità, insomma dei lavori importanti sono stati fatti. Ma per chi usa il 18 carati, ecco la cosa bella di questo pennino che è diventato poi, nonostante abbia caratteristiche di durezza diverse, no? Perché cambia proprio la caratura dell'oro, ma è incredibilmente, diciamo, Erminio è riuscito a portarlo a un livello di finezza strepitoso, ok? Quindi io posso scrivere molto fine, un F a tutti gli effetti, con delle mie scritture classiche, grazie correnti, posso però, ecco, in questo caso posso veramente fare il cursivo inglese, ecco, questa qui, perché ho una variabilità di tratto veramente, e lo tengo con poco. Vedete, non faccio nessuna fatica. Proprio non ho fatto nessunissima fatica, allo stesso modo posso andare a roccheggiare la scrittura alla mia maniera, riscriviamo di nuovo quel bel pangramma che abbiamo visto prima e vedrete che in questo caso con quei fini, insomma i contrasti diventeranno ancora più interessanti, no? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. vedete la penna mi segue sempre bene guardate quanto è interessante il contrasto della linea è venuto bene anche qua perché è un penino sottile ma l'altro era decisamente diverso questo segno se vi ricordate eccolo qua quindi niente la prova è questa ma la cosa appunto straordinaria è che avete visto che nonostante cambino le leghe in questo caso quindi insomma una differenza di caratura tra un 14 carati un 18 carati ma alla fine queste leghe diciamo aurora dimostrano insomma i loro cento anni di storia si vedono anche proprio in queste cose qua perché poi una cosa va detta ecco che penso sia l'unica manifattura italiana e anche forse europea che ha proprio tutta la filiera in casa dal pennino alla galvanica fuori non viene dato nulla e quindi una storia che ha superato i cento anni da qualche anno è tutta evidente in queste cose qua che state vedendo quindi non è una cosa da poco e va dato atto che insomma questa manifattura con questa prova si dimostra veramente sempre nell'empireo degli strumenti di scrittura e niente con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per la vostra pazienza nel seguirmi ciao a tutti grazie